Con questo video intitolato Chi era Saffo cominciamo una nuova serie dedicata a quelle trasformazioni che avvengono quando una persona finisce nelle mani di uno scrittore, di un poeta, di un romanziere, e cioè finisce per essere persona e diventa personaggio. Ecco, in questa serie vogliamo vedere le trasformazioni di personaggi realmente esistiti, quindi dalla realtà, nelle mani degli scrittori, cioè alla finzione. E cominciamo con Saffo. Partiamo naturalmente dal dire chi era questa poetessa, che troverà poi spazio in una delle canzoni più belle scritte delleopardi, appunto l'ultimo canto di Saffo. Era una poetessa greca dell'isola di Lesbo, era vissuta nel VII secolo a.C. e proveniva da una nobile famiglia. Per la verità lei non era della capitale di Lesbo, cioè di Mitilene, era nata ad Ereso e si era trasferita a Mitilene soltanto in un secondo momento. È qui che si sposa e ha pure una figlia di nome Cleide che racconta, di cui parla in alcuni frammenti che ci sono arrivati. È costretta ad andare a Esude in Sicilia, probabilmente per questioni politiche. Ne sappiamo pochissimo da lei, ma di fatto, insomma, sappiamo molto di più dal CEO che è vissuto nello stesso periodo, quindi dobbiamo ipotizzare qualche contrasto con il tiranno dell'isola. Ritorna comunque a Mitilene e qui fonda un Tiaso. Ma che cos'è questo Tiaso? Ecco, il Tiaso è un collegio dedicato alla dea dell'amore ad Afrodite. Ma cosa si fa in questo Tiaso? Si impartisce un'educazione artistica ma anche religiosa a quelle ragazze aristocratiche che erano in età da marito, quindi come preparazione al matrimonio stesso. In particolare l'educazione si caratterizzava per lezioni di canto, di danza, di musica, in particolare la lira, attività varie nei quali appunto si davano dei consigli ai ragazzi come prendersi cura del proprio corpo, su come insomma abbellire la propria persona anche con alcuni piccoli lavoretti manuali. E poi l'educazione era, abbiamo detto anche religiosa, perché c'era una serie di funzioni in onore di Afrodite. Questo sappiamo qualcosa della vita del Tiaso, dei frammenti di Saffo e quindi ovviamente abbiamo un'intera produzione soltanto dei testi, da cui però ci possiamo fare un po' un'idea di quali fossero i sentimenti in questo Tiaso. Saffo per le proprie ragazze provava sentimenti misti dalla gelosia al desiderio fisico, l'attrazione fisica. Il rapporto omoerotico non era condannato in Grecia ma di fatto può darsi anche che Saffo fosse veramente colpito dalla bellezza di alcune di queste sue allieve e anche il rimpianto quando queste allieve avevano completato il percorso e quindi erano ormai pronte al matrimonio. E l'altra Saffo? Come nasce quell'immagine di Saffo che noi leggiamo nell'ultimo canto di Giacomo Leopardi. L'altra immagine nasce da Aristofane, non solo dai commediografi, che hanno di fatto costruito un'immagine artefatta, particolare. I commediografi Aristofane in particolare appartenevano alla commedia antica, prendevano bonariamente in giro una serie di personaggi dell'epoca, ovviamente evidenziando alcuni tratti caratteristici, portando all'eccesso alcuni vizi o comunque semplicemente mettendo alla berlina alcuni personaggi, capitato anche per Socrate. Questa tradizione di una Saffo diversa, una Saffo lontana dall'immagine che nasce di lei quando noi leggiamo i suoi frammenti, arriva a Ovidio che appunto sulla falsarica di Aristofane parla di Saffo nelle sue Eroides in una di queste lettere e questa tradizione arriva nelle mani di Leopardi. Ma quest'altra Saffo, come dipinge appunto la poetessa greca? Per questa altra tradizione Saffo era brutta, era perdutamente innamorata di un marinaio bellissimo, un amore non ricambiato, il marinaio si chiamava Faone, e proprio perché questo matrimonio, questo amore non era ricambiato, la poetessa si sarebbe uccisa lanciandosi dalla rocca delle Eucade nell'isola di Lesbo. Questa tradizione quindi di una Saffo non bella, perdutamente innamorata di Faone e suicida per l'amore non ricambiato di questo marinaio, arriva a Leopardi e Leopardi ne risulta affascinato. Ma innanzitutto è lo stesso Leopardi che annota al canto, l'ultimo canto di Saffo, appunto questa riflessione. Si seguita la tradizione volgare intorno agli amori infelici di Saffo poetessa, benché il Visconti ed altri critici moderni distinguono due Saffo, l'una famosa per la sua ira e questa più moderna. Quindi il poeta è consapevole dell'esistenza di queste due figure di Saffo, una la poetessa appunto conosciuta e l'altra invece una Saffo moderna. Perché Leopardi si interessa di più a questa seconda immagine di Saffo? Perché Leopardi vede in Saffo un proprio alter ego. Lo dice, insomma, si parla di una creatura infelice, dall'animo delicato, sensitivo, nobile e caldo, posto in un corpo brutto e giovane. Questa è la prima similitudine tra Leopardi e Saffo. La bruttezza di Saffo, ma anche i suoi toni delicati, la sua dolcezza, come appunto traspare in quell'ultimo canto di Saffo, stabiliscono un parallelo appunto tra questa poetessa greca e Leopardi stesso. Quindi una creatura infelice però dall'animo nobile, dall'animo sensibile, dall'animo delicato, ma questo animo si trova purtroppo in un corpo brutto. L'altro elemento che spinge Leopardi a scegliere questa versione di Saffo è perché come Saffo anche lui ha cercato un impossibile accordo con la natura. Anche nell'ultimo canto di Saffo la natura appare placida appunto, bella, ma davanti a questa immagine della natura ce n'è un'altra, sottesa, che appunto piano piano si comincia a costruire in questi anni. L'ultimo canto di Saffo appunto appartiene le canzoni che sono scritte tra il 1818 e il 1822, quindi immediatamente prima delle operette morali. Leopardi riflette sul concetto della natura e piano piano il concetto della natura si sta evolvendo nella riflessione leopardiana. Non c'è più una natura benigna, ma una natura che si avvia ad essere matrigna, come appunto lo sarà nelle operette morali e successivamente il terzo momento, il terzo elemento che spinge a questa sovrapposizione tra Leopardi e Saffo, quindi alla scelta da parte di di quella Saffo moderna, è che entrambi avvertono l'insensatezza della virtù nella nella loro società, cioè non serve a niente avere una virtù importante, notevole, in una società che sembra totalmente insensibile a questi animi delicati, a questi animi sensibili, a questi animi appunto nobili. Ecco perché Leopardi sceglie Saffo e soprattutto ecco perché Leopardi sceglie la Saffo della tradizione moderna, non la Saffo della poetessa da cui noi possiamo ricavare gli elementi essenziali, insomma leggendo le sue poesie, ma una Saffo rielaborata in cui i concetti fondamentali sono proprio di questa creatura dolce dal corpo brutto che non riesce ad avere un rapporto simbiotico con la natura e che si trova appunto pensa di essere sempre nel posto sbagliato e si sente appunto in profondo difetto con se stesso. Insomma lo dice la Saffo qual fallo mai, qual si ne fanno eccesso, ma chiommi, anzi il Natale. Ecco quindi quale errore mai ho compiuto perché io possa portare appunto l'estimate di questa mia infelicità in una società completamente chiusa in se stessa e insensibile ai grandi animi, agli animi sensibili.